La città di Verona è lieta di ospitare il 21 e 22 giugno il congresso ERMCO, l'associazione che riunisce i rappresentanti dell'industria del calcestruzzo preconfezionato dell'Europa, di Israele, Turchia, India, Sud America, Stati Uniti, Russia e Giappone. Un appuntamento di grande valore per la nostra città, che è già nota per altri importanti eventi fieristici di rilievo internazionale nel settore delle costruzioni. Non è un caso che la nostra Verona sia particolarmente attenta ad un tema come quello del ruolo dell'industria del cemento per lo sviluppo dell'Europa, innanzitutto perché Verona è di fatto un crocevia infrastrutturale tra l'Italia e l'Europa, per cui riteniamo strategici i programmi europei per le nuove reti di trasporto di cui si parlerà durante il congresso. Egualmente l'attenzione al tema delle costruzioni sicure e sostenibili è fondamentale soprattutto nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo, Si tratta infatti di un settore che può costituire un volano per la ripresa e per nuove opportunità occupazionali. Sono particolarmente lieto del fatto che centinaia di imprenditori provenienti da tutto il mondo potranno visitare Verona in un mese, giugno, che valorizza pieno le potenzialità della nostra città sia per le bellezze paeseggistiche che per quelle artistiche e culturali. Buon lavoro! Buon lavoro!